Un altro tassello che va a completare l'insieme delle manifestazioni che riguardano il Natale Salernitano è questo villaggio di Santa Claus. L'anno scorso ci è mancato, ci è mancato i nostri figli, le famiglie e ci si dice che Natale per i bambini vuol dire che doveva ritornare, è ritornato dalla porta principale, credo abbiamo conosciuto i primi passaggi con l'associazione che si è giudicato il bando, mi sembra che stiano facendo le cose per bene, seriamente, ho visto il progetto preliminare, una pista di pattinaggio per i più piccoli, dei laboratori teatrali, giostre per i bambini, un bambino Natale che riceve la posta con un vero timbro raffigurando le renne, insomma tutto quello che può portare i bambini a sorridere, quindi quando i bambini sorridono sicuramente c'è voglia di felicità alla città gresce. Poi una cosa bella è di far rivivere anche quella zona che l'anno scorso aveva spento le luci che era quella del parco Salid e del parco Binocchio, sempre in quel ragionamento di non fare delle attività legate a Natale solo al centro della città, ma che sia tutto un centro, quindi il parco Binocchio può fare da stimolo a tutte le attività commerciali della zona, quindi siamo soddisfatti, ci ritroveremo tutti quanti dal primo dicembre col villaggio di Babbo Natale che piace a tutti quanti, ai piccini e anche a voi belle giornaliste.